Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio il dottor Sergio Iavicoli che è il direttore del Dipartimento Medicina, Epidemiologia e Igiene del lavoro dell'Inail e voglio ringraziare insieme al direttore anche l'Inail per il contributo che sta dando alla gestione dell'emergenza e di cui poi lui ci parlerà nel corso del suo intervento. Partiamo con i dati di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 83.049 con un incremento di 2.477 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.053 sono in terapia intensiva, 28.540 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte delle persone affette da coronavirus 50.456, il 61 per cento del totale sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. È da notare che questo numero è cresciuto anche percentualmente e quindi si riducono il numero degli ospedalizzati. Purtroppo il numero dei deceduti ancora oggi registrato è di 760 nuovi deceduti. Il totale dei guariti è complessivamente di 18.278. Rispetto a ieri le persone guarite sono 1.431 in più. Per quanto riguarda l'attività della centrale remota di soccorso sanitario ad oggi risultano trasferite 105 pazienti dalla Lombardia, 2 in più rispetto a ieri. Di questi 65 sono pazienti positivi al coronavirus, 40 pazienti negativi. Di questi trasferiti fuori regione 32 sono stati trasferiti in Germania. Per quanto riguarda le forze in campo voglio ricordare che sono circa 16.500 per l'esattezza 16.506 sono i volontari impiegati sia i volontari delle associazioni nazionali di volontariato che delle associazioni locali impiegata per questa emergenza a cui si aggiungono il personale delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, il personale sanitario. Le tende di pre-triage al di fuori degli ospedali sono 790 e 151 sono ancora le tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Per quanto riguarda le donazioni raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile sul conto dedicato ad oggi abbiamo raccolto 101 milioni e 246 mila euro e di questo voglio veramente sottolineare questa cifra importante che abbiamo raggiunto grazie alla generosità di donatori grandi e piccoli. Abbiamo avuto grandi donazioni che ringraziamo ma abbiamo avuto anche piccole donazioni tante piccole donazioni che altrettanto ringraziamo. Rispetto a ieri abbiamo speso a valere su questo conto delle donazioni un altro milione e 800 mila circa, in totale sono 9 milioni e 900 mila circa le somme già spese per l'acquisto di ventilatori e di dispositivi di protezione individuale. Voglio ricordare che oggi è partito il secondo nucleo della task force dei medici e domani arriveranno a Roma il primo nucleo della task force degli infermieri. Sono partiti 76 dottori per rinforzare la parte sanitaria della regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Marche e Valle d'Aosta. Poi voglio anche ricordare che come avete visto a Bergamo, alla Fiera di Bergamo, è pronta la struttura che è stata attivata dal Dipartimento dell'Associazione Nazionale Alpini. Io voglio ricordare l'Associazione Nazionale Alpini e ringraziare l'Associazione Nazionale Alpini per l'apporto che danno in tutte le emergenze e anche in questa emergenza hanno dato un grande contributo. Così come voglio ricordare e ringraziare il contributo delle Forze Armate, in particolar modo della Marina, per l'ospedale da campo che è stato installato a Iesi. Voglio ringraziare in modo particolare questa sera il Comando Operativo di Vertice Interforce, che è il nostro entry point con le Forze Armate, per lo straordinario impegno che stanno facendo dall'inizio dell'emergenza per corrispondere alle richieste anche immediate e a volte anche qualche volta estemporanee, perché le esigenze sono assolutamente urgenti da parte del Dipartimento della Protezione Civile. Io mi fermerei qui e darei la parola al Dottor Iavicoli. Prego Dottore. Grazie. Il focus di oggi che facciamo è quello del rapporto tra lavoro e salute in questa pandemia, questa emergenza sanitaria. E' un focus su cui non abbiamo ancora in questi appuntamenti avuto un approfondimento, ma è un punto estremamente importante, cioè la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. E' particolarmente tutti quei lavoratori che hanno continuato a lavorare, partendo dagli operatori sanitari, in cui i numeri epidemiologici ci dicono, insomma, che sono circa il 9,7% di tutti i contagiati. Quindi un numero comunque importante sia per dimensioni che richiedono la massima attenzione e supporto. Ecco, su questo poi ci saranno anche degli approfondimenti su questa tipologia, ovviamente, anche negli aspetti di ricerca. Ma non solo i lavoratori della sanità. Ci sono tanti altri lavoratori dei servizi essenziali, tutta la filiera alimentare, come sappiamo, le forze dell'ordine, le forze armate. Anche i ricercatori che continuano a lavorare per dare risposte a questa emergenza, anche con grande impegno e anche, come vediamo, dall'evoluzione delle conoscenze. Ma anche, voglio ricordare, la pubblica amministrazione e anche le società private che hanno continuato con i loro lavoratori ad operare in modalità di lavoro agile, contribuendo a quelle misure contenitive, ma continuando a offrire un'attività lavorativa. Non è semplice, dopo 30 anni che si è lavorati, come ricordava anche oggi il Ministro Dodone, ricordare quanto sia complesso lavorare in un ambiente domestico, interfacciarsi con la tecnologia, ma continuare a offrire quei servizi. Ecco, sotto tutti questi punti di vista rispetto alla salute e sicurezza c'è bisogno di attenzione e di fare dei focus di approfondimento. L'Inail, innanzitutto con la sua funzione assicurativa, la funzione diciamo istituzionalmente più tradizionale, anche rispetto alle normative che sono state parate per l'emergenza, garantisce tutela assicurativa in occasione di lavoro per i soggetti che sono stati colpiti da Covid-19. E rispetto a questo sono stati anche attivati dei meccanismi anche di facilitazione rispetto, per esempio, i tempi di deroga sulle denunce di malattia professionale o anche, comprendo nelle tutele, per esempio anche il periodo di quarantena o isolamento domiciliare. Ecco, questo è un tema che credo sia importante anche focalizzare, anche per sensibilizzare che vengano poi fatte le segnalazioni e le denunce di infortunio per favorire tutti questi aspetti di tutela. Sono stati anche a questo, per esempio, prorogati i termini per poter fare questo tipo di risorse. Però è anche, diciamo, un bisogno complessivo di adattare. Se tutto il sistema di sanità è stato sottoposto a un'enorme prova da stress di carico per rispondere all'epidemia, credo che, come ricordavano anche molti colleghi nei giorni precedenti, ha dato prova di essere uno dei migliori servizi sanitari nazionali che ha permesso di adattarsi anche organizzativamente. Ovviamente questo ha creato anche complessità da gestire per garantire la salute e sicurezza e i modelli prevenzionali in questo contesto. Quindi l'altro punto è anche dare un contributo come ricerca. Noi siamo, il nostro Dipartimento è un Dipartimento di ricerca, quindi anche in collaborazione con le altre istituzioni, con l'Istituto Superiore di Sanità. Faremo degli approfondimenti anche sugli aspetti dell'epidemia. Per esempio sugli operatori sanitari faremo anche in collaborazione con le Regioni un approfondimento dei dati epidemiologici. Al di là delle misure che sono ovviamente importanti di prevenzione e protezione, credo uno degli aspetti importanti è anche il rischio psicosociale. Quindi uno dei punti su cui offriremo, dalla prossima settimana, assieme al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, una piattaforma e una guida di supporto per gli operatori di psicologia che operano all'interno delle aziende sanitari per poter offrire una rete coordinata di supporto e prevenzione del burnout connessi agli aspetti che sono un punto sollevato da molti come una necessità per gli operatori sanitari. Inoltre credo che su questo punto anche il nostro contributo su questo aspetto è soprattutto un'attività di rete che continuerà nel resto anche nel periodo delle fasi successive rispetto alla progressione e anche quando verranno modulate successivamente gli aspetti e quindi ci saranno più possibilità per il ritorno al lavoro. Allora diamo il via alle domande. Buongiorno, Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. Io vorrei tornare sul tema dei tamponi perché lei ci ha spiegato, sia lei che l'Istituto Superiore di Sanità, ci avete spiegato che il numero di tamponi, ad oggi sono quasi 600 mila se non sbaglio, non corrisponde al numero esatto delle persone testate perché ci sono i secondi tamponi, le persone fanno più tamponi. Non sarebbe meglio comunicare e quindi recepire dalle regioni il numero delle persone testate? Lo chiedo anche perché presumo ci sia una differenza fra il dire su 600 mila tamponi ci sono 100 mila contagiati in Italia piuttosto che dire su 300-400 mila persone ci sono 100 mila contagiati. Inoltre anche i dati che ci vengono forniti su base quotidiana possono essere influenzati da questo. Mi spiego, ieri c'è stato un incremento dei positivi ma c'è stato anche un incremento dei tamponi. Però io presumo che quell'incremento dei tamponi sia dovuto anche ai tamponi effettuati sui 1.400 guariti ieri che hanno fatto il secondo tampone. Ci saranno i tamponi, il primo tampone delle persone dichiarate guarite oggi, ci sarà il secondo tampone effettuato a una persona. Quindi anche l'analisi del dato su base quotidiana influisce di questo. Non sarebbe meglio dare il numero delle persone testate in maniera tale da avere delle percentuali non influenzate da questi fattori di cui ho appena parlato? Grazie. Noi diamo il numero dei tamponi perché è il dato che ci viene comunicato dalle regioni. C'è un'indagine epidemiologica che cura l'Istituto Superiore di Sanità. Credo che nelle attività che loro stanno facendo andranno anche a verificare il numero delle persone che effettivamente ha fatto tamponi e quindi a raggruppare, come dicevo ieri, chi ha fatto almeno tre tamponi perché per essere dichiarati guariti si devono fare due tamponi con esito negativo. È una cosa in corso per quello che noi comunichiamo. Comunichiamo i dati che otteniamo dalle regioni secondo quelle che sono poi le indicazioni del Ministero della Salute. Sicuramente avremo poi, prima possibile, mi auguro, anche il dato delle persone che hanno effettuato i tamponi in numeri assoluti o relativi collegati anche con i territori. Buonasera, Daniele Petraroli, Tg2. Al Dottor Borrelli volevo chiedere un veloce commento sui numeri perché è giusto parlare di stabilizzazione o è cominciata un po' una decrescita se mettiamo in relazione i nuovi malati con appunto e molti più tamponi fatti. Questo, Mari, un velocissimo commento su questo. Invece per l'INAIL ho un paio di domande. Visto che a molte persone sintomatiche che sono in isolamento domiciliare c'è il problema dei familiari perché a queste persone, Mari, non è stato fatto il tampone. I familiari sono costretti all'isolamento domiciliare ma il datore di lavoro non gli riconosce questa quarantena in assenza di tampone positivo. Quindi come risolvere questo problema è la prima. La seconda oggi i sindacati Cigiele e Cislewil vi hanno chiesto a che punto è il riconoscimento degli indennizi previsti a chi si è contagiato sul posto di lavoro andando sul posto di lavoro. Visto che sono passati 16 giorni dal decreto Cura Italia volevano sapere e vorremmo sapere anche noi a che punto siamo su questo. Grazie. Allora parto dalla prima domanda. Come sapete da qualche giorno almeno dal 27 di marzo noi stiamo assistendo a una riduzione di quelli che sono gli incrementi. Gli incrementi dei ricoverati, gli incrementi di chi è in terapia intensiva. Oggi il numero è veramente contenuto di chi è in terapia intensiva. L'incremento rispetto a ieri è stato di 18 persone. Quindi stiamo assistendo a tutta una serie di valori che ci stanno stabilizzando. Poi io non so dirvi se abbiamo iniziato o stiamo iniziando quando inizierà la decrescita, la parte decrescente. Quello che posso però dire è che dobbiamo mantenere alte quelle che sono le misure, le attenzioni, i comportamenti da tenere. Perché basta un nulla, perché si possano creare delle occasioni per cui si innescono dei meccanismi repentini di riavvio del contagio. Per questo preferisco rimanere con i piedi per terra. Preferisco giorno per giorno poter constatare i dati e poterveli comunicare. Prego, sull'altra parte. Sì. Allora sulla questione dei familiari rispetto ai soggetti positivi l'importanza ovviamente di ricordare che i contatti stretti sono in isolamento fiduciario per il periodo previsto di 14 giorni e quindi è importante questo ricordare. Rispetto agli aspetti specifici io quello che voglio ricordare è che la norma e quindi anche l'applicazione dell'istituto è che la tutela è la più ampia possibile. Quindi specificatamente la quarantena e l'isolamento domiciliare sono tra le misure soggette a tutela. Ora sull'articolazione nell'ambito dell'emergenza e di come questo poi venga specificato ovviamente sarà cura di approfondimento e quindi ringrazio anche per la segnalazione. Quindi ovviamente le componenti anche all'interno sarà un feedback di riflessione importante su cui migliorare anche se ci sono dei punti. Sulla applicazione, ecco su questo io ricordavo infatti che noi abbiamo l'istituto soprattutto ha attivato uno specifico codice dedicato per Covid-19 quindi su tutte le denunce infortunio che vengono attivate e in alcune, soprattutto quelle relative ai casi purtroppo mortali, si è attivato anche il modo di dare rapidamente riconoscimento ai superstiti. Per esempio il caso tra i primi dell'operatore di 118 avvenuto in Lombardia è stato, come anche avete avuto probabilmente modo di leggere sui media, c'è stato su questo anche un'intervista del direttore regionale della Lombardia riconosciuto e indennizzato. Quindi la nostra attenzione è anche proattiva. Per esempio noi seguiamo dove non ci fossero denunce direttamente anche dalla stampa le notizie degli infortuni e su tutti gli altri ripeto anche il mio auspicio che arrivino le segnalazioni. Capiamo anche che è un momento di emergenza e su questo è anche il motivo per cui sono stati anche prorogati i termini. Vorrei ricordare che assieme agli operatori sanitari che non hanno smesso nessuno di lavorare anche con l'enorme carico anche la componente sanitaria dell'istituto così radicata sul territorio ha mantenuto aperti tutti gli ambulatori prime cure quindi è stato garantito a tutti i tecnopatici e infortunati soprattutto in una fase così complessa dove il servizio sanitario è stato sovraccarico dell'emergenza covid di garantire quel tipo di assistenza sanitaria di cui hanno bisogno. Anzi per rafforzare questo sistema è stato anche attivato uno specifico anche bando proprio nella collaborazione con la protezione civile che copre più aspetti sia anche, veniva ricordato anche prima della sorveglianza epidemiologica ma soprattutto quelle attività sul territorio nelle reti per cui è stato aperto un bando delle tipologie anche affrontate dalle altre istituzioni per 200 medici e 100 infermieri. Buonasera Giorgia Sador a DN Cronos Volevo chiedere, visto che sono già alcuni giorni che si parla di ripartenza per quanto riguarda le imprese, quali sono le linee guida che state studiando che le imprese dovranno rispettare per poter riavviare le attività produttive e far sì che i lavoratori possano appunto lavorare in sicurezza. Immagino che tra queste linee guida ci sarà anche l'uso dei DP che però in questo momento comunque sono difficili da reperire se state pensando qualcosa insomma in particolare per le imprese. Assolutamente sì, questo è un tema centrale ed è probabilmente anche il più complesso quello di gestione con attenzione. Io al di là, il tema si è molto focalizzato anche il dibattito dei media sui DP, sul tema che è un tema assolutamente importante. Però credo che gli aspetti di gestione siano anche più complessi, anche sfidanti. Per esempio i meccanismi organizzativi che si possono adottare in azienda modulando proprio quelle regole generali di distanziamento sociale, di igiene, bonafrassi, di evitare le aggregazioni di lavoratori in ambienti numerosi. Come credo ricordava anche il Presidente del Consiglio dovremo affrontare una fase di gradualità complessiva. Quindi anche queste misure dovranno in qualche maniera venire incontro a questa gestione. come anche le misure di prevenzione e protezione. Una misura ad esempio estremamente importante sarà quella della gestione dei lavoratori fragili. Cioè quei lavoratori che sono più soggetti, come abbiamo avuto modo di imparare, da questa nuova malattia perché la conosciamo, ancora la stiamo conoscendo. Cioè la ricerca giorno per giorno aggiunge nuovi elementi conoscitivi. Ma ad esempio il ruolo delle figure della prevenzione in azienda, il medico competente che potrà anche modulare ad esempio ai lavoratori sopra una certa età oppure portatori di malattie cronico degenerative che abbiamo imparato dall'epidemiologia che sono quelli anche più soggetti ai casi con un'evoluzione più severa della malattia di avere delle misure differenziate. Poi credo che in questo ambito, come per il lavoro agile, si è fatto un salto credo di anni. Credo che nessuno poteva pensare di mettere l'80% dei lavoratori che lavorano nella pubblica amministrazione, ma anche in molte aziende che fanno servizi in modalità di lavoro agile. Ovviamente non è l'ottimale, è una scelta forzata, ma la tecnologia e le soluzioni organizzative possono offrire, come vediamo anche da quanto stimolo, anche all'innovazione e alla ricerca. Ovviamente la ricerca, l'attenzione dei medi è focalizzata molto sulla diagnostica, sulla parte terapeutica, sui vaccini che sono ovviamente un punto centrale di questa epidemia. Ma anche la ricerca è anche rispetto al partenariato che abbiamo con enti di ricerca, omologhi al componente di ricerca dell'Inail, di trovare soluzioni comuni di gestione che possano, mettendo sempre al centro la salute, perché ricordiamo tutte le scelte sono basate su evidenze scientifiche e su mettere al centro la salute. Però combinare insieme l'esigenza della salute e del lavoro è una sfida estremamente importante, che però siamo abituati sotto altri ambienti, altre sfide rispetto, pensiamo a quello che è stato spostando anche altre importanti sfide nel mondo del lavoro, spostando in ambiti totalmente anche diversi come l'amianto. Quindi come imparare a trovare soluzioni rispetto ad aspetti che sono estremamente complessi e difficili. Ma anche in questo io credo che si possa trovare, anche utilizzando la sorveglianza epidemiologica e tutto l'insieme del sistema con le altre istituzioni, di poter modulare, evidenziare come muoverci. Si chiederanno delle certificazioni, cioè come farete a avere, diciamo, la certezza che poi le imprese effettivamente stiano rispettando le regole sostanzialmente? Beh, ovviamente noi abbiamo un sistema di... ovviamente bisognerà fornire supporto, formazione, informazione, buone prassi. Quindi su questo sicuramente lavoreremo. Ma ricordiamo che c'è anche un sistema prevenzionale di vigilanza, di controllo e che non è solo vigilanza in senso stretto ma anche supporto. Travarese, agenzia Asca News. Al Dottor Borrelli vuole chiedere un commento, una risposta alle parole del Presidente della Lombardia di oggi Fontana, il quale ha detto che da Roma sono arrivate solo briciole e aspettano ancora materiali e risorse per combattere questa emergenza. Grazie. Ma io voglio innanzitutto dire che con Regione Lombardia stiamo lavorando, lavoriamo bene, a livello tecnico lavoriamo molto bene, colgo anche l'occasione per salutare qualcuno dei colleghi di Regione Lombardia che ha contratto il coronavirus e che è in ospedale e che non sento da qualche giorno. Noi mandiamo in Regione Lombardia, come nelle altre Regioni, i dispositivi di protezione individuale, mandiamo le attrezzature, mandiamo i medici, forniamo tutto il supporto necessario e voglio dire che alla Regione Lombardia, che è la Regione più colpita, abbiamo inviato la maggior parte di aiuti rispetto anche alle altre Regioni. In proporzione su circa 45 milioni di mascherine che abbiamo distribuito in Regione Lombardia sono andati il 17% di queste mascherine. Quindi noi diamo il supporto e daremo sempre un supporto maggiore. Non voglio aggiungere altro rispetto a quello che noi facciamo. Buonasera, Lorenzo Di Cicco del Messaggero. In questi giorni, sempre sul tema delle mascherine, diverse scorte sono rimaste bloccate alle dogane oppure non sono state distribuite perché prive del marchio della Comunità Europea. Volevo chiedere se in questo senso ci sarà un intervento nei prossimi giorni dato che sicuramente di questo tipo di materiali c'è bisogno. Grazie. Devo dire che colgo anche l'occasione una volta per tutte per ringraziare l'Agenzia delle Dogane, i colleghi delle Dogane perché stanno facendo un ottimo lavoro. In questo periodo vengono importate mascherine di tutti i tipi da ogni parte del mondo quindi loro fanno un controllo di regolarità di quello che viene importato e c'è anche un filtro per quanto riguarda l'importazione. C'è in atto una procedura con il Commissario e dapprima con il Dipartimento della Protezione Civile. perché sono convinto che con la procedura in atto anche con la modulistica che si trova sul sito dell'Agenzia delle Dogane si può facilmente sdoganare e liberare le mascherine e i dpi che arrivano nelle nostre Dogane. Quindi sarà sempre più fluido senza però tralasciare quella che è l'esigenza di un controllo di regolarità delle merci che vengono importate nel nostro Paese. Volevo dire riguardo alle ipotesi che vengono avanzate da più parti per esempio al di là delle regioni che si stanno attrezzando per i test seriologici per verificare appunto le persone immuni. Molti enti, tra cui Confindustria in Emilia Romagna ha lanciato anche la proposta di far ripartire l'economia in alcune imprese effettuando dei test seriologici sugli stessi lavoratori che potrebbero essere i primi a ripartire per la cosiddetta fase 2 insomma per la ripartenza delle imprese. Questa è una domanda. Poi volevo chiedere, in generale tutti accogliamo positivamente in questi ultimi giorni il trend positivo che c'è sul calo dei ricoveri e anche degli stessi contagi. Dato questo trend, non vi chiedo ovviamente una risposta secca, però è ipotizzabile a questo punto, a maggio, di riuscire a poter entrare in questa fase 2? Allora, io parto dai test sierologici. È uno degli argomenti di attualità anche da parte della comunità scientifica, dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Emergenza, dell'Istituto Superiore della Sanità. Quindi si sta discutendo, si sta individuando una linea da parte della scienza e della tecnica e credo che anche questa domanda possa trovare una risposta più adeguata domani nel corso della riunione che il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità con il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità terranno nella solida conferenza delle ore 12 di domani l'Istituto Superiore della Sanità. Per quanto riguarda... Riguardo a questa domanda, c'è una vostra... Allora, per quello che riguarda noi ci attendiamo una risposta chiara da parte degli scienziati. Se la vogliamo mettere in termini molto semplici, quindi io quando avrò questa informazione sarò felice di potervela fornire, ma credo che si stanno ancora facendo delle valutazioni scientifiche. Per quanto riguarda il mese di maggio io mi auguro, mi auguro vivamente che nel mese di maggio noi ci potremmo trovare in una situazione migliore rispetto a quella di oggi fermo rimanendo tutte le cautele che dobbiamo mantenere altrimenti ci troveremo di nuovo in una situazione peggiorativa. Visti i trend possiamo essere ottimisti per maggio? Visti i trend attuali chiaramente. Guardi, io sono realista e quindi non voglio instillare facile ottimismo, voglio dire le cose come stanno. Io mi baso sui dati che giorno per giorno mi vengono dati. Grazie. 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 Grazie.